e Kevin Bruno nello spazio va davanti da Vedovati eccolo Kevin Bruno in area di rigore Sterzer rientra sul destro c'è Russo che chiama il pallone, la parata Di Magro e poi pallone in mezzo Cumi prova a metterci la testa arriva il gol di Mancino al volo di Vedovati Sassuolo in vantaggio meritato 1-0 Quanta la manovra Kevin Bruno decide di andare in porta Magro, il primo miracolo, bene 5 grano la testa di Cumi che è sempre lì e poi dimenticato totalmente Gabriele Vedovati e questo non può piacere a Barraco si può far cadere in manca al 37 nero verde di Tommaso raccio di Gonzales che voleva la traccia Milani, pallone in mezzo, il colpo di testa di Sardo il palo la ritrova pareggio meritato della Lazio e adesso si balla la samba per mezz'ora Celeste con un'azione alvolgente Milani il sinistro qua la traccia della mezzala Sardo il colpo di testa il palo e qui c'è la fortuna che aiuta agli audaci la fortuna che aiuta Sardo nel ritrovarsi quel pallone lì e mettere dentro da due passi Gonzales la scucchiaiata per Suleimani solo contro Tainer la riapre la Lazio la chiude quasi anzi la Lazio la vuole chiudere con Suleimani bene Gonzales qua anche i cambi ad incidere male totalmente male terribilmente male la linea difensiva prendere questa imbucata campo aperto molto bene Leone uno dei pochi che si sta salvando nel computo Novatti che poi viene agganciato da Di Tommaso calcio di rigore la cosa più evidente si aggrappa totalmente anche i millimetri dell'erba del Ricci Russo con il destro ipnotizzato da Magro si gioca ancora pallone in mezzo messo da Novatti l'eroe qua c'è poco da dire indovina l'angolo il rigore bruttissimo però di Russo mezza altezza non troppo convinto di Russo di Russo di Russo di Russo di Russo Grazie a tutti.